Volevo farvi vedere la rosetta basale di una piatta erbacea molto diffusa in Italia e molto utilizzata in cucina. Si trova facilmente a febbraio e a marzo in questo stadio, quindi è nello stadio di rosetta basale. Questa è un'ipocaeris glabra, esistono in Italia altre ipocaeris, sono tutte ugualmente commestibili. In italiano questa pianta viene chiamata ad esempio piattello. Piattello si capisce subito perché non so se riesco a farvi vedere ma è quasi, è veramente aderente al terreno. Se io provo a sollevare le foglie della rosetta basale faccio quasi fatica. Le foglie vanno sollevate perché la pianta, la rosetta basale andrà incisa qua, le bel percolletto e sollevo poi tutta la rosetta basale lasciando però la radice, mi raccomando. Dicevo quindi uno dei nomi è piattello proprio per la sua disposizione, veramente aderente al suolo. Sembra quasi attaccata, quasi incollata al suolo. Non solo, viene chiamata anche costolina, giuncolina o ingrassaporci. Ingrassaporci perché pare che fosse particolarmente amata dai maiali che potevano crescere selvatici. Costolina perché, prendo una foglia, se io vi faccio vedere il retro della foglia, notate come il rachide centrale, guardate, è sollevato. Quindi forma proprio una costa, anche nella parte anteriore è molto visibile, guardate, nella parte posteriore proprio si nota benissimo. Invece il nome giuncolina è dovuto al fatto che poi dalla parte centrale della rosetta basale si svilupperà un fusto, uno stelo fiorale verde che può essere tra l'altro cucinato come gli asparagi. Io lo faccio di solito al vapore e poi ci condisco la pasta, la frittata. È buonissimo anche lo stelo fiorale oltre alla rosetta basale. La rosetta basale di questa pianta erbacea io ve la consiglio cruda, sia per il sapore, che è solo leggermente amaro, sia per la consistenza perché è proprio una pianta che è croccante. Proprio ha questa consistenza e quindi quando fate una misticanza cruda è molto piacevole al palato secondo me e è molto più buona da cruda che da cotta. Inoltre ha un sacco di proprietà perché è una pianta che è antiossidante, depurativa e anche chelante, quindi è ottima per fare tutte quelle cure depurative, chiamiamo le cure depurative, dieti depurative della primavera che caratterizzano un po' la primavera. Allora la foglia, la foglia è lucida, è dotata di una leggerissima peluria, però una peluria impalpabile, forse qua si vede meglio. Ecco, è una foglia che ha l'apice che è sempre arrotondato, guardate qua come si notano i peli, vedete che tutte le foglie hanno questo apice arrotondato e il margine è sinuoso. Dicevo, ripeto, si raccoglie la rosetta basale, quindi il coltello viene messo qua sotto, si taglia a livello del colletto e poi un'altra caratteristica carina che ha l'ipocaeris, il piattello, è che quando la lavate con l'acqua fredda si arriccia. E quindi nell'insalatona, nell'insalata fa anche una bella figura perché sembra una piccola rosa. Eccola qua, ipocaeris glabra, piattello, giuncolina, costolina, ingrassaporci della famiglia delle asteracee.